non sono gli amici più fidati dell'uomo ma di certo sono quelli più coccolati si tratta dei gatti felini miniatura adorati da come divinità dagli antichi egizi allora è stata dedicata la mostra artistica allestita nell'ex chiesa di san cristoforo lodi messa a disposizione della provincia abbiamo potuto contare sulla collezione di peppino gatti oltre due secoli di pittura e scultura con i gatti in prima fila detto angelo bocchioli rappresentanza degli amici degli animali l'associazione che ha organizzato la singolare per certi aspetti straordinaria manifestazione grazie all'apporto dei lions e del garante dei diritti degli animali fino a domenica 24 febbraio è possibile fare un tuffo nell'universo dei felini domestici come con dipinti sculture disegni e fotografie realizzati da artisti di fama internazionale e nazionale si va da francisco goia renouard a manea steinland per arrivare a francesco messina pierangelo tronconi e remo pasetti solo per fare alcuni nomi fra questi anche due lodigiani franco razzini appassionato di fotografie dell'onore ghilardi alla rassegna non manca un richiamo all'editoria italiana e straniera dedicata espressamente al mondo dei gatti e una delle tante conferme della sovranità regale di questi animali sul mondo degli uomini la mostra è l'occasione per raccogliere fondi da destinare agli amici degli animali saranno indirizzati alla cura del contenimento del fenomeno del randagismo presente anche in città